Ciao a tutti ragazzi, oggi vi porto direttamente a Verona, precisamente nella pasticceria Scarpato dove in occasione di questa Pasqua mi ha inviato questa colomba gigante perché è da un chilo in questa confezione bellissima che veramente ne vale veramente la pena solamente per la confezione allora mi ha inviato questa colomba classica con canditi d'arancia poi vi è questa glassatura di amaretto, lo zucchero in granella e le mandorle italiane davvero buonissima anche perché io ho assaggiato per Natale il loro pandoro ed è veramente favoloso quindi vi consiglio di prenderla anche perché questa pasticceria si contraddistingue dalle altre proprio per i suoi prodotti lievitati in 72 ore, quindi rende il prodotto buonissimo e morbidissimo e in occasione loro producono anche l'offella, ovvero un dolce veronese con un'antica ricetta veronese che è veramente buonissimo anche questo e quindi niente ragazzi, grazie comunque al loro catalogo ci sono come potete vedere diverse tipi di colombe che veramente c'è soltanto l'imbarazzo della scelta c'è quella a caramello, amarena e crema pasticcera, al cioccolato, rum e cioccolato, gin lemon veramente c'è l'imbarazzo della scelta io vi consiglio di andare a vedere il loro sito e poter dare un'occhiata alla colomba che più vi piace e niente, state connessi perché il prossimo video vi farò vedere all'interno della colomba e la assaggieremo assieme ringrazio ancora la pasticceria Scarpato per questa splendida colomba ringrazio ancora la pasticceria Scarpato per questa settimana